Ciao a tutti e benvenuti. In questo video andremo nel dettaglio di alcune tecniche ed esperimenti che di solito vengono chieste agli esami di citologia. Tra le tante proteine di membrana trattate nei precedenti video che, se non hai visto, ti consiglio di guardare, abbiamo la proteina della banda 3. che è una proteina transmembrana e presenta diversi domini. Inoltre ha degli oligosaccaridi legati alle anse che uniscono i vari domini. Queste proteine transmembrana possono essere osservate tramite la tecnica del freeze fracture and itching. Questa tecnica viene anche chiamata criodecappaggio. Tramite questa tecnica, infatti, le cellule sono congelate in azoto liquido e il blocco di ghiaccio che ne risulta viene fratturato con un coltello. Il piano di frattura, a questo punto, tende a passare attraverso il centro idrofobico dei doppi strati di membrana, separandoli nei due monostrati. Le facce di frattura esposte sono ombreggiate con platino e la replica di platino che si forma è esaminata con un microscopio elettronico. Quando il doppio strato lipidico viene spezzato, la metà interna o quella esterna di ciascuna proteina transmembrana viene tirata fuori dal monostrato congelato con cui è associata. La proteina, a questo punto, tende a rimanere con il monostrato che contiene la massa principale della proteina stessa. Per questo motivo, le proteine della banda 3 rimangono di solito con la faccia interna, mentre, per esempio, le molecole di glicoforina, che è un'altra proteina, rimangono di solito con la faccia esterna. Questo perché, essendoci più massa in uno dei due strati, la proteina rimane attaccata a quello in cui ha la massa maggiore. Di solito si utilizzano gli eritrociti, cioè i globuli rossi, perché questi non hanno né il nucleo né gli organoli e quindi è possibile studiarne la membrana. Per distruggere la membrana e separare le proteine da essa, di solito si utilizzano dei detergenti, come il dodecilsolfato, detto SDS, o il triton X100. Questi, infatti, rompono le associazioni idrofobiche distruggendo il doppio strato lipidico. I detergenti sono molecole anfipatiche, cioè formano quindi delle micelle, le cui estremità idrofobiche si legano alle regioni idrofobiche delle proteine di membrana, spostando così le molecole lipidiche. L'altra estremità del detergente, che è invece polare o idrofilica, può essere carica come nel SDS, nel sodio adoricilsoolfato, oppure può essere priva di carica, come per i triton. Con dei detergenti forti, come l'SDS, anche le proteine di membrana più idrofobiche, possono essere solubilizzate. Questi detergenti, quindi, possono denaturare le proteine legandosi alle loro porzioni idrofobiche interne, rendendole in questo modo inattive. Tuttavia, è poi possibile purificare le proteine dalla forma denaturata da SDS, rimuovendo il detergente e ricostruendo delle vescicole di fosfolipidi. Un altro esperimento che di solito fa parte della discussione all'esame è la fusione di cellule in cultura con la formazione di un eterocarionte. Avevamo visto in un precedente video che la fluidità delle membrane dipende dalla temperatura e dalla composizione. Come i lipidi di membrana, le proteine non attraversano in linea retta il doppio strato lipidico, ma ruotano attorno ad un'asse perpendicolare al piano del doppio strato. Inoltre, molte proteine di membrana sono capaci di muoversi lateralmente all'interno della membrana per diffusione laterale. La prova per far vedere che le proteine della membrana plasmatica sono mobili è stata vista tramite questo esperimento. Per fondere le due cellule si utilizzano o agenti chimici oppure delle proteine virali come il Sendai. Il Sendai virus è un tipo di virus che attacca le cellule eucariotiche. Sappiamo che i virus devono inserire il loro genoma virale all'interno di una cellula eucariotica e quindi serve per forza il contatto e la demolizione della membrana. Tramite il Sendai le cellule si fondono formando un eterocarionte, cioè una cellula che contiene dei nuclei di tipo diverso. Avremo quindi una cellula ibrida che presenterà un citoplasma in comune, mentre ovviamente i nuclei rimangono sempre separati tra di loro. Ma come facciamo a osservare le proteine? Le proteine vengono osservate tramite un anticorpo, cioè una molecola che riconosce in maniera specifica quella determinata proteina. Marcando quindi le proteine con degli anticorpi osserviamo che al tempo zero queste sono separate. Dopo l'incubazione a 37 gradi queste si ritrovano mescolate con distribuzione omogenea. Dopo un po' di tempo, circa 40 minuti, le due serie di proteine si diffondevano e si mescolavano su tutta la superficie cellulare. La velocità della diffusione laterale delle proteine di membrana può essere misurata tramite la tecnica del FRAP, cioè il recupero della florescenza dopo fotosbiancamento. La tecnica del FRAP consiste nel marcare le proteine della membrana con un gruppo fluorescente speciale per poi irradiare una porzione della cellula con un raggio laser che però non ustiona la membrana. È infatti un raggio laser a bassa energia. Se si va ad utilizzare la lunghezza d'onda giusta, queste proteine smettono di emettere radiazioni fluorescenti. Nelle zone non colpite dal laser, invece, avremo delle proteine che sono ancora fluorescenti. L'idea è che se la membrana è fluida accadrà che le proteine non più fluorescenti dovranno spostarsi e che quindi le molecole fluorescenti andranno a riempire la zona che prima era bianca. Infatti, osservando al microscopio si nota che l'area sbiancata riacquista progressivamente colore e la velocità di recupero del segnale avviene con velocità proporzionale alla velocità di diffusione nella membrana delle proteine marcate. Abbiamo quindi terminato questo piccolo approfondimento. iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi i prossimi video. Inoltre, lasciate un like o un commento per farmi sapere se il video vi è stato utile. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto!